Siracusa Parco degli Iblei, Caffeo, non ingestare territorio ma coniugare imprese e ambiente. Auspico che gli enti locali nella perimetrazione del Parco degli Iblei non ingestino il territorio penalizzando le imprese che devono essere coinvolte. Serve coniugare ambiente e sviluppo economico. Lo ferma il deputato regionale di Prima l'Italia Giovanni Caffeo in merito all'istituzione del Parco degli Iblei che comprende le province di Siracusa, Catania e Ragusa dopo il via libera del Ministero della Transizione Ecologica. Il Ministero, dice Caffeo, ha indicato un termine alla fine del mese di luglio entro il quale gli enti interessati, liberi consorsi comunali Ragusa e Siracusa e la città metropolitana di Catania dovranno esprimere una valutazione relativamente alla perimetrazione del Parco dopo aver organizzato degli incontri con il territorio. E' fondamentale, aggiunge il deputato regionale di Prima l'Italia, valorizzare e tutelare l'ambiente senza per questo penalizzare gli investimenti privati, senza i quali l'economia locale rischia di rimanere paralizzata con evidenti e drammatiche ricadute e sotto l'aspetto occupazionale. Gli enti che promuoveranno queste consultazioni, dice ancora Caffeo, hanno una responsabilità enorme. Per questo è indispensabile sentire pareri dei comuni, delle imprese, delle associazioni al fine di impedire dei vincoli estesi e gravosi che avrebbero solo il merito di zavorrare lo sviluppo del territorio siracusano, peraltro già compromesso dalle vicende legate alla zona industriale. Per quanto attiene il territorio di Siracusa, conclude il parlamentare regionale di Prima l'Italia, Caffeo, sarà mia cura sollecitare il commissario del Libero Consorzio di Siracusa ad ascoltare le esigenze delle forze produttive di questa provincia che sono la linfa vitale della nostra economia.